e allora possiamo cominciare possiamo cominciare mi ascoltate potete cominciare ci siamo tutti allora inizio buon pomeriggio a tutti grazie a tutti per essere buon pomeriggio dove si scrive buon pomeriggio salve allora dicevo abbiamo scelto di parlare oggi di scuola e di pandemia nella giornata che coincide proprio con la riapertura delle scuole in tutta Italia perché come sappiamo naturalmente l'ultimo decreto ha disposto la riapertura delle scuole fino alla classe prima della scuola secondaria di primo grado anche in quelle zone che sono ancora zone rosse perché ormai da più di un anno che la scuola ma anche la politica alla società civile si interrogano sulle opportunità di tenere aperte le scuole e con quali misure di sicurezza che possano garantire naturalmente la sicurezza sia degli studenti che degli operatori scolastici ci si interroga perché se da un lato è giusto garantire in particolare ai più piccoli che hanno sono quelli che hanno le difficoltà maggiori a seguire le lezioni a distanza e quindi garantire loro sia il diritto allo studio ma anche il diritto alla socialità a muoversi a stare insieme agli altri e il diritto a tutto quello che la scuola rappresenta per gli studenti dal più piccolo al più grande d'altro canto sono forti anche le preoccupazioni che riguardano la necessità di naturalmente limitare i contagi e la circolazione del virus in particolare in questo momento in cui è in corso la campagna vaccinale campagna vaccinale che è in corso anche per però no, però ti volevo dire spegnere i microfoni dicevo la campagna vaccinale che è in corso anche per il personale scolastico naturalmente non parlerò di vaccini perché lascerò parlare le persone, gli esperti che verranno dopo di me volevo solo proporre una riflessione sul vaccino, sulla strazeneca sulla scelta di riservare il vaccino a strazeneca che un vaccino si prevede un intervallo di tempo di quasi tre mesi tra la prima e la seconda somministrazione quindi considerato che i docenti e il personale scolastico hanno iniziato a vaccinarsi nel mese di febbraio ovviamente la seconda dose sarà somministrata a maggio quando la scuola sarà quasi punita quindi forse questa scelta poteva essere maggiormente ponderata se vogliamo parlare un attimo della situazione delle scuole in Campania dobbiamo dire innanzitutto che la Campania è la regione che ha avuto le scuse per più tempo in assoluto anche se in realtà gli studenti campani, una parte degli studenti campani oggi sono rientrati in classe e come è avvenuto a settembre sono rientrati in classe gli stessi criteri di sicurezza che erano stati previsti nel mese di settembre le stesse aule in linea di massima lo stesso numero di allunni e quasi sempre, diciamo quasi in tutte le scuole anche gli orari scolastici non sono stati modificati e questo comporta la presenza nelle aule scolastiche in media di 20-22 persone insieme per un orario che fa dalle 4 alle 6 ore le misure di sicurezza le conosciamo la mascherina è obbligatoria per i bambini dai 6 anni in su quindi nella scuola dell'infanzia non c'è l'obbligo di mascherina il distanziamento di un metro tra le rime buccali abbiamo imparato in questi mesi, più o meno dal mese di agosto a usare in maniera più frequente questo termine il distanziamento tra le rime buccali che indica la distanza di sicurezza che deve essere tenuta tra gli alunni all'interno delle aule in origine si parlava di un metro di distanza tra i banchi e poi è diventato un metro tra le rime buccali naturalmente chi vive la scuola e lavora nella scuola sa che questa misura non sempre può essere garantita perché ovviamente gli studenti da più piccolo a più grande non riescono a mantenere la stessa posizione per tante ore l'aerazione dei locali che viene effettuata esclusivamente aprendo le finestre e a tutto questo si aggiunge il fatto che se la campagna dovesse tornare nei prossimi giorni o nelle prossime settimane in zona arancione riprenderebbero le attività didattiche in presenza anche per la seconda e la terza classe della scuola secondaria di primo grado e tra il 50 e il 75% per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado tutto questo avverrebbe senza un intervento mitigativo perché il trasporto pubblico in particolare nella provincia di Napoli è assolutamente inadeguato ma è inadeguato proprio a garantire la circolazione dei cittadini attraverso i mezzi pubblici e quindi a maggior ragione è inadeguato a garantire la sicurezza rispetto al contagio aggiungo a questo voglio aggiungere che la frequenza degli alunni al 50% è una misura sicuramente una misura di sicurezza necessaria ma che comporta dei grandi problemi di organizzazione all'interno delle scuole chi vive la scuola ma non solo chi vive la scuola anche chi è genitore sa che pensare di fare scuola al 50% con metà classe in presenza e l'altra metà a distanza che seguono in contemporanea la lezione è qualcosa che ha completamente stravolto il concetto di scuola e allo stesso modo se si pensa ai turni doppi e tripli anche questo è una soluzione che incide in maniera pesante sull'organizzazione delle famiglie non solo delle famiglie degli studenti ma anche di chi nella scuola ci lavora ora in questo scenario diciamo delineato brevemente delineato naturalmente ripetere che la scuola come un mantra che la scuola è un luogo sicuro non serve a molto nel senso che bisogna andare a trovare e a capire che cosa succede realmente all'interno delle aule scolastiche e se realmente si riesce a limitare la circolazione del virus in un ambiente dove forse come in nessun altro ambiente si sta insieme per tanto tempo in tante persone come Gilda abbiamo in questi lunghi mesi di difficili relazioni sindacali abbiamo più volte chiesto che il ministero ci fornisse i dati dei contagi nelle scuole perché non è difficile capire che naturalmente una rilevazione sistematica dei dati dei contagi nelle scuole avrebbe permesso e permetterebbe a chi lavora nella scuola anche fornendo dei dati disaggregati differenziati tra i vari ordini di scuola e ordini di scuola e anche tra le diverse aree geografiche e questo avrebbe permesso naturalmente di intervenire in maniera specifica in maniera mirata sui problemi specifici naturalmente questo non è avvenuto o per meglio dire è avvenuto in maniera discontinua e estemporanea quindi questa in sostanza è la situazione delle scuole in Campania io non abbiamo detto dieci minuti quindi non vado oltre voglio lasciare la parola agli altri grazie a tutti grazie Viviana Iannelli ho dimenticato di presentare Viviana Iannelli che è la segretaria provinciale del San Gilla di Napoli voglio dare la parola al professore Gerardo Patti che ringrazio per i complimenti che mi ha rivolto che non sono tutti meritati perché io ho fatto quello che qualunque cittadino di buon senso e di buon cuore avrebbe fatto in un tempo inedito per il nostro paese in un momento difficile in cui credo che il valore della solidarietà avrebbe dovuto essere esaltato da tutti colori uguali stringendosi la mano sono riusciti ad aiutarsi il professore Gerardo Patti è direttore scientifico responsabile dell'attività di ricerca sperimentale clinica del Pascale e nella prima odata nella prima fase del Covid quella che ci ha colto un po' tutti i preparati nel marzo di un anno fa ha lavorato con il professore Paolo Ascerco per trattare i pazienti che arrivavano in terapia intensiva o comunque che arrivavano in condizioni difficilissime respiratorie e ha scoperto insieme al professore Ascerco la possibilità di utilizzare un farmaco che poi è stato utilizzato a tantissimi ospedali italiani il tocilizumab il farmaco che devo dire il cui nome inizialmente difficile da pronunciare io ho imparato molto bene l'ho imparato perché ho vissuto sulla mia pelle l'esperienza drammatica del Covid ed è grazie al tocilizumab che mio fratello è ancora qui ed è grazie al professore Gerardo Potti e al professore Paolo Ascerco nei confronti dei quali quindi come cittadina ma lasciatemi dire come persona ho un debito di riconoscenza che non sarà possibile colmare al professore Gerardo Potti io volevo porre alcune domande intanto la questione del vaccino e della sperimentazione del nuovo vaccino Tachis quali sono le caratteristiche di questo vaccino e a che punto è l'attività di questa sperimentazione perché il problema in realtà oggi è la mancanza la sanità di un numero sufficiente di vaccini in grado di coprire l'intera popolazione per arrivare a quella che si chiama immunità di droga con il vaccino e una domanda specifica sul vaccino AstraZeneca perché il vaccino AstraZeneca è il vaccino con cui in Inghilterra sono stati vaccinati quasi 18 milioni di persone in Italia il vaccino AstraZeneca è quello riservato al personale della scuola tra l'altro ed è quello che ha evidenziato le situazioni più critiche quelle che hanno generato maggiore allarme sociale mi riferisco ai casi di trombosi che purtroppo hanno invitato molti cittadini italiani a valutare l'opportunità di ricevere non solo la prima dose ma addirittura la seconda dose di vaccino AstraZeneca quindi io credo fortemente nell'uso del vaccino ritengo che il vaccino rappresenti davvero l'unica soluzione per affrontare questa tragedia della pandemia è necessario però che la scienza guidi quelle che sono le scelte della politica e rassicuri anche rispetto a quelle che sono le preoccupazioni del tutto legittimo dei cittadini che ascoltano la stampa che leggono la stampa che ascoltano i figli e che in alcuni casi sono preoccupati professore Gerardo Batti a lei la parola grazie buonasera a tutti grazie per l'invito onorevole davvero grazie ancora lo dico a tutti per chi non mi avesse sentito prima per aver fatto sentire la vicinanza delle istituzioni in un momento così difficile complicato e soprattutto confuso alla sua domanda la prima risposta che dovrei dare soprattutto relativa alla tipologia di informazione che le persone attette ai lavori avrebbero l'obbligo di dare e quindi soprattutto essere coerenti con quelli che sono gli indirizzi che provengono dalla comunità scientifica riferendoci come comunità scientifica a quelli che sono i dati universalmente riconosciuti sperimentati e che vengono fuori da indagini epidemiologiche la medicina non è una scienza esatta anzi mi ricordo che quando mi presi la seconda specializzazione oncologia un vecchio medico amico di papà mi disse caro Gerardo la medicina è una scienza esatta l'oncologia è una scienza sbagliata nel senso che parlavamo parliamo di 35 anni fa perché anche l'oncologia veniva vista con la branca della ineluttabilità avere una diagnosi di tumore significava avere una condanna a morte in giorni mesi in più fortunati qualche anno oggi fortunatamente non è così e allora in questo stesso stato confusionale bisogna riconoscere ci siamo trovati con questa pandemia di questo virus sappiamo tanto e niente perché uno è un virus ad RNA e quindi come tale è un virus molto labile soggetto come avete sentito a facili mutazioni del proprio profilo genetico il che significa che le cosiddette varianti altro che non sono che altri filamenti di RNA che hanno delle piccole mutazioni al loro interno cambiano totalmente il loro modo di diffondersi e di amplificare o meno la malattia come tale quindi capisco benissimo che i mezzi di informazione che hanno una grande responsabilità nel diffondere correttamente le notizie dal mondo scientifico abbiano essi per prime difficoltà perché le prime difficoltà se ci calassimo voglio dire il velo dell'onniscienza le abbiamo noi ricercatori noi che siamo addetti ai lavori per cui io inviterei sempre alla cautela quando ci rendiamo c'è qualche sapete chi più e chi meno compare con una frequenza quasi giornaliera in televisione e sembra rappresentare la scienza infusa e purtroppo i fatti non sempre poi riconoscono come vere le cosiddette verità dichiarate e allora quindi prima difficoltà che di questo virus non sappiamo tutto sappiamo però che quando sviluppa una malattia la malattia molto grave con interessamento prevalente del sistema cardiorespiratorio e dei vasi sanguigni ecco perché la trombosi vista come pericoloso effetto collaterale tardivo di questa malattia è una fase molto difficile le cui cause risalgono a questa risposta esagerata dal punto di vista immunitario che è stata chiamata tempesta immunitaria e grazie all'intuito dei ricercatori voglio dire come quello di Paolo Ascerto che abbiamo impiegato un farmaco che utilizzavamo per sedare gli effetti collaterali dell'immuno di alcune forme di immunoterapia l'abbiamo applicato in questa fase diciamo di malattia avanzata indotta dal coronavirus e ha dato delle ottime risposte significative risposte e questo è quello che abbiamo imparato a conoscere ma fondamentalmente la nostra stragrande preoccupazione è quella di di costituire e quindi creare quell'immunità di greggio che si crea soltanto con la vaccinazione allora cominciamo a dire che qualsiasi vaccino attualmente presente è importante e non è drammaticamente pericoloso come alcuni casi sembrano validare e mi riferisco in modo particolare all'AstraZeneca la professoressa che mi ha preceduto giustamente parlava anche dell'impiego nell'ambito del personale scolastico di questo vaccino che poi richiede tra la prima e la seconda dose un intervallo maggiore ma io questo lo prenderei come fatto buono vuol dire che l'immunizzazione precoce rispetto al vaccino Pfizer che è quello che per esempio ho fatto io e che prevede un richiamo dopo tre settimane significa che con lo Pfizer noi dobbiamo avere subito una ristimolazione del sistema immunitario invece con l'AstraZeneca già abbiamo in una fase diciamo abbastanza precoce una dose di anticorpi sufficienti a contrastare questa infezione da coronavirus che tende a calare dopo qualche mese ecco perché il richiamo viene fatto a una maggiore distanza di tempo quindi questo innanzitutto serve per rassenerare gli insegnanti che pensano giustamente di essere scoperti in questa fase ma noi questa ripeto è una scoperta è una cioè diciamo è una 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 deficit presunto ma che non diciamo trova riscontro nelle indagini immunitarie che invece dimostrano che già con la prima dose del vaccino astrazeneca abbiamo una buona immunità che va quindi rinsaltata per aver più lunga successivamente ci auguriamo di 8 10 mesi questa è la media di tutti i vaccini con un richiamo diciamo a distanza di tempo maggiore rispetto al 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 Pfizer che abbiamo fatto noi prevalentemente operatori sanitari e per non dilungarmi troppo anche perché penso che il collega Paolo ha scelto dopo parlerà prevalentemente della parte vaccinale riguarda gli aspetti diciamo e utili per la popolazione io vorrei semplicemente uno fare un riferimento alla tematica generale del giorno e che quanto sia difficile il limite tra il diritto all'istruzione e il diritto alla salute e il diritto al lavoro quindi ci troviamo tutti in una situazione di un delicatissimo equilibrio e in questo voglio dire non dobbiamo cercare conflittualità ma invece io penso che una volta in cui riusciamo a trovare una sinergia del pensiero per quanto riguarda la convivenza proprio di questi tre fattori che fanno la nostra vita cioè la salute la salute il lavoro e l'istruzione solo così possiamo anche tutelare quelli che sono i principi dell'uguaglianza delle opportunità rafforzando voglio dire quei principi che vanno contro le diseguaglianze sociali culturali ed economiche quindi anche il vaccino in questo momento può essere un momento di collante tra queste tre diciamo tra queste tre grosse problematiche istruzione economia e quindi salute che devono camminare insieme l'altro aspetto che voglio invece sottolineare è che il nostro vaccino dico nostro sì perché noi a parte con Paolo ha scelto diciamo che il nostro lavoratore di trincea anche per quanto riguarda il vaccino il vaccino Tachis è un vaccino a DNA contrariamente al vaccino dell'AstraZeneca che ha bisogno di un vettore virale ed è a RNA questo vaccino innanzitutto è a DNA non ha bisogno di un vettore virale ed è nella prima fase stiamo nella fase uno di sperimentazione cioè stiamo studiando la tollerabilità di questo vaccino e i risultati sono veramente estremamente promettenti passeremo fra un mese mese e mezzo alla fase due poi alla fase tre che significa avere delle informazioni sulla effettiva efficacia nella popolazione del vaccino che sarà disponibile a scopo preventivo e quindi sull'intera popolazione verso settembre ottobre perché abbiamo cominciato da poco la fase uno però vorrei richiamare la vostra attenzione su dei dati molto importanti perché questo vaccino tutto italiano che nasce appunto da questa azione combinata tra lo Spallanzani il San Gerardo di Monza e il Pasquale e un'altra farma un'altra industria del farmaco emiliano la cosa importante è che questo vaccino è modulabile a seconda delle varianti perché sapete benissimo il problema qual è? Che alcune varianti sembrano non rispondere ai vaccini nati contro il ceppo di Wuhan perché ricordiamoci che la pandemia è nata con quel ceppo lì invece questo questo vaccino è modulabile significa che possiamo ridisegnare il frammento di DNA che andiamo a iniettare gli individui in rapporto alla variante prevalente immaginate il grosso vantaggio tutto non ha i problemi della catena del freddo nel senso che è un vaccino che nella peggiore delle ipotesi si può conservare a temperature di frigorifero 4 gradi ma che resiste anche per giorni a temperatura ambiente quindi immaginate la facilità anche della catena di somministrazione e l'altra cosa che vorrei sottolineare è che la diffusione all'interno dell'organismo viene facilitata da questo meccanismo di elettroporazione cioè prima di iniettare questo vaccino quindi nel muscolo deltoide come avviene per gli altri questi altri vaccini la diffusione all'interno delle cellule è più immediata e quindi è più immediata anche la reazione perché utilizziamo questo elettroporatore che è una sorta di macchinetta che fa una piccola piccola scarica elettrica a bassa frequenza che facilita la penetrazione e quindi immediata è la risposta immunitaria quindi questo è l'altro grosso vantaggio e poi direi che gli studi che cosa hanno confermato che in fase preclinica perché prima di passare alla fase clinica qualsiasi vaccino viene utilizzato in fase preclinica e quindi nella sperimentazione animale spero di essere chiaro cerco di essere molto elementare perché altrimenti è inutile questa chiacchierata che noi ci facciamo ma quello che è stato importante è che il vaccino inoculato quindi in fase preclinica quindi in animali da laboratorio ha dimostrato che la migliore risposta immunitaria quindi le cellule effettrici della risposta immunitaria si accumulava negli animali da esperimento nei polmoni e nei grossi vasi sanguigni e quindi questo ha a testimoniare il fatto che gli organi target del quindi bersaglio del coronavirus malattia sono quelli che sono attenzionati maggiormente da questo vaccino e quindi noi su questo vaccino che purtroppo prima di settembre non sarà disponibile contiamo molto proprio per tutti questi vantaggi che abbiamo imparato diciamo a mettere in campo grazie alle conoscenze che di cui abbiamo suffruito da parte degli altri vaccini messi in campo io mi fermerei qua e se c'è qualche altra domanda onorevole De Lorenzo specifica sono poi questo aspetto sarà molto meglio di me da Paolo Ascerto la ringrazio per il suo intervento professore Bocchi vorrei passare la parola al professore Paolo Ascerto perché so che dopo è un'altra conferenza scuola io presento il professore Paolo Ascerto che è oncologo e ricercatore insieme al professore Bocchi sta seguendo la sperimentazione del vaccino ADNA ideato dalla società romana Tati appunto in collaborazione con tre diversi ospedali l'ospedale di Monza lo spallanzani di Roma e appunto il cascale di Napoli professore Paolo Ascerto io vorrei farle una domanda da porne un quesito diretto molti suoi colleghi biologi e sporti di malattie infettive si sono pronunciati rispetto al decreto Draghi del primo aprile che ha previsto la riapertura delle scuole fino alla prima media e molti dei suoi colleghi si sono espressi negativamente nel senso che hanno ritenuto e ritengono che l'apertura delle scuole possa costituire un elemento aggiuntivo di diffusione del contagio perché la scuola per la sua natura per sua natura in quanto l'uomo di assembramento naturale giovani studenti e docenti è un luogo che si presta facilmente alla diffusione delle missioni la scuola è la platea che sicuramente può muovere il maggior numero di contagio aggiungo però i docenti il 68% del postale della scuola ha ottenuto la prima vaccinazione e in alcuni casi addirittura il secondo la seconda dose di vaccino astrazionale che idea rispetto alla riapertura delle scuole soprattutto in una regione qual è la campagna che è una regione rossa dove ancora il tasso di mortalità risulta troppo elevato e il numero dei contagi si attesta nell'ordine dei migliai al giorno grazie professore a lei anzitutto grazie a lei per gli organizzatori per per l'invito per me è un piacere essere qui anche se come lei ha detto per un periodo limitato perché poi un'altra o un'altra cosa detto questo nella sua presentazione la ringrazio per le parole gentili per 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 l'introduzione che mi ha fatto ma anche riassunto quelli che sono i nodi e i punti cruciali per quanto riguarda il discorso scuole riapertura delle scuole allora incominciamo con con il dire che per quanto riguarda le scuole le scuole in questo momento prese di per sé sono sicuri io credo che in tutte le scuole sono stati messi in atto quelli che sono i vari protocolli per il distanziamento sociale all'interno delle scuole c'è un controllo che rispecchia quelli che sono i requisiti quindi la scuola di per sé sarebbe anche sicura tra l'altro lei ha aggiunto che il 68% degli insegnanti sono vaccinati il problema delle scuole quello a cui fanno riferimento i miei colleghi è il prima e il dopo la scuola il prima quindi per arrivarci perché quando parliamo di studenti soprattutto delle superiori e che prendono spesso e volentieri dai mezzi pubblici ecco lì si crea l'assembramento e il dopo perché io ho parlato con tanti professori nei mesi scorsi quando sono state riaperte le scuole e tutti quanti sono stati concordi nel dire la scuola di per sé è il sicuro ma fino a quando noi siamo in grado di tenerli ragazzi prima del suono della campanella c'è il distanziamento sociale mettono la mascherina li controlliamo dopo quando vanno fuori ecco lì succede il patatrack quindi gli elementi cruciali sono il prima e il dopo la scuola e poiché come giustamente diceva lei i numeri in questo momento sono numeri che non ci permettono di allentare la guardia perché viaggiamo a livello di duemila casi al giorno sentivo dei colleghi del cutugno poche ore fa e in questo momento nel cutugno ci sono le file insomma c'è quindi ci sono tanti tanti pazienti che vengono ricoverati per la polmonia quindi non c'è una situazione di diminuzione del numero dei contagi tale che ci possa permettere ad allentare anche la presa tra l'altro il momento è critico perché perché ci troviamo nel pieno della campagna vaccinale e questo significa che la campagna vaccinale è quello che ci permetterà di porre una bandriera all'infezione noi non dimentichiamo quello che è successo nel Regno Unito e quello che è successo in Israele dove questa vaccinazione di massa soprattutto il Regno Unito rende e questo e apro una parentesi anche a testimonianza di come il vaccino AstraZeneca verso cui se ne stanno dicendo tante cose è un vaccino che ha una sua dignità non esistono vaccini di serie A e di serie B è un vaccino che dà una protezione è stato visto che fare il richiamo dopo tre mesi aumenta e porta questo l'indice di protezione fino al 90% ci sono come tutte le cose degli effetti laterali rari e quindi può essere fatto con molta tranquillità il fatto che quasi il 70% degli insegnanti l'abbia fatto è un fatto importante che può rendere le scuole ancora più sicure però di per sé noi non dobbiamo parlare della scuola se non parliamo del prima e del dopo perché quello è il nodo cruciale non la scuola di per sé non ovviamente i professori iniziano a essere quasi tutti vaccinati le scuole hanno i requisiti minimi come ho detto prima ma se non si fa un'azione sul prima e sul dopo ovviamente la possibilità di diffusione del contatto c'è perché sono come diceva lei delle situazioni di sembramento che poi portano soprattutto tra i ragazzi a un aumento del contatto e poi il discorso è con questa variante inglese che in questo momento rappresenta il 70% e anche di più per cento dei infetti si hanno più sintomi e si hanno più pazienti anche che vanno in ospedale per la polmonite quindi la variante inglese è quella che tra l'altro si diffonde ancora di più tra i giorni e ci sono anche tanti giovani ricoverati quindi questo è un fenomeno che noi abbiamo visto nel Regno Unito agli inizi di gennaio se andate a scogliare le pagine dei giornali e i commenti dell'epoca erano esattamente gli stessi e oggi come sapete il Regno Unito grazie a quella campagna vaccinale che ha fatto soprattutto attraverso il vaccino di AstraZeneca il numero dei ricoverati negli ospedali si è drammaticamente ridotto questo per dire due cose di come la campagna vaccinale è necessaria di serie A e di serie B e di come in questo momento critico è importante fare attenzione proprio per dare in modo la campagna vaccinata di essere praticamente terminata e quindi di garantire la protezione alla popolazione detto questo e ritornando alla scuola è chiaro che ci sono delle situazioni e mi riferisco alle prime elementari anche le prime medie dove è necessario anche un insegnamento in presenza perché non dobbiamo dimenticare che i bambini di prima elementare iniziano a leggere e scrivere quindi hanno bisogno anche di quel contatto per essere guidati è chiaro quindi ci sono delle situazioni diverse lo stesso per i ragazzi di prima media che si affacciano alla scuola media superiore ovviamente dopo un'esperienza invece delle elementari quindi è un salto diciamo verso una scuola cosiddetta dei più grandi quindi ci sono delle situazioni che sicuramente necessitano di un'attenzione è chiaro che anche le soluzioni ibride vanno incoraggiate non tutti i giorni non tutti tutti i giorni ovviamente una differenziazione però il vero problema lo ribadisco è il prima e il dopo perché la scuola è sicura in quanto tale il prima e il dopo invece meno e quindi non si può pensare a una scuola di apertura se non si pensa anche a come sistemare il primo quando questi ragazzi vanno a scuola con i mezzi pubblici e il dopo nell'evitare che si facciano assembramento quindi con dei controlli serrati anche fuori dalle scuole quindi lì dove si possono creare queste situazioni grazie grazie mille professore Ascetto le sue parole ci danno conforto io sono sempre stata dell'avviso che la scienza debba dimostrare in ogni momento la sua autonomia dalla politica e che la politica deve prendere trarre giovamento da quelle che sono le esperienze della scienza perché possa poi tradurle in azioni concrete nell'interesse esclusivo dei cittadini non dimentichiamo che il diritto alla salute è un diritto costituzionalmente garantito che i cittadini tutti devono sapere che il contemporaneo il diritto al lavoro e il diritto all'istruzione rappresenta una priorità per lo stato di diritto con una caratteristica particolare il diritto alla salute va attuato nel rispetto di quello che è un principio il principio di precauzione e quindi mettere in campo tutta una serie di azioni tutta una serie di interventi che rendano effettivo ed efficace il diritto alla salute e come politici dobbiamo interrogare su quelle che sono state le scelte operate rispetto alla diversificazione del sistema di territorio nazionale con la presenza di realtà sanitarie diverse in Lombardia e in Campania mi riferisco al titolo della Costituzione su cui la politica dovrà interrogarsi perché gli effetti di quella combinato disposto di non ha prodotto sicuramente gli effetti desiderati ma sia tutela del diritto alla salute dei cittadini se il professore Paolo Ascetto e il professore Gerardo Gotti potranno stare ancora in collegamento una decina di minuti io farei intervenire l'onorevole Angela Iannaro che è in questo momento diputata della Repubblica ma è anche docente universitaria ordinario di farmacologia alla Federico II ricercatrice Valeria non ti sento più mi sentite? noi ti sentiamo Angela ti sentiamo allora parola ad Angela all'onorevole Angela Iannaro che ringrazio come tutti gli altri naturalmente per il suo intervento la sua partecipazione grazie sono io che ringrazio gli organizzatori per questo interessante interessantissimo finora e sono sicura che proseguirà anche dopo nel dibattito successivo questo momento di incontro e di riflessione ed un grazie particolare alla cara amica e onorevole Rina Valeria De Lorenzo saluto anche gli amici Gerardo e Paolo Gerardo Botti e Paolo Ascerto con cui abbiamo condiviso e condividiamo ancora numerosi interessi in campo scientifico la pandemia da Covid-19 con il suo rompere devastante nella vita di tutti i cittadini ha portato alla ribalta il tema del diritto alla salute ha riscoperto quindi l'importanza del godimento di questo diritto quale bene prioritario che non è niente affatto negoziabile e fondamentale per godere di tutti gli altri diritti garantiti si è parlato del diritto al lavoro del diritto all'istruzione sono tutti diritti interconnessi e come diceva l'onorevole De Lorenzo già la nostra Costituzione recita il primo comma dell'articolo 32 che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e punto fondamentale che io sottolineerei per la sua estrema importanza garantisce cure gratuite agli indigenti questo è un aspetto particolare della nostra Costituzione quindi già dalla formula adottata dai padri costituenti se vince l'obiettivo finale dell'ordinamento alla tutela del bene salute il quale viene considerato in primis interesse individuale del singolo ma soprattutto è interesse della collettività come abbiamo detto finora quindi se ai sensi della Costituzione ogni cittadino ha il diritto di vedere tutelata la propria salute per contro lo Stato ha il dovere di assumersi il compito di realizzare tutte le condizioni finché ciò avvenga è uno dei nostri compiti come è possibile far sì che si realizzino tutte le condizioni perché questo bene fondamentale venga tutelato innanzitutto attraverso il sistema sanitario nazionale che già che dal 1978 che appunto è l'anno della sua istituzione ispirandosi ai principi fondamentali dell'universalità dell'uguaglianza e dell'igualità garantisce a tutti i cittadini l'accesso universale come dicevamo all'erogazione delle prestazioni sanitarie oggi questo insieme di strutture funzioni servizi e attività è particolarmente impegnato nella difesa della salute del cittadino contro un nemico invisibile che come diceva anche il professor Botti che ha indotto tutti gli stati del mondo ad adottare delle misure inedite per proteggere vite umane inedite in quanto hanno richiesto ed imposto un necessario ecobilanciamento tra salute e altri diritti quindi l'attuale emergenza di salute pubblica che non ha precedenti nella nostra storia di mi sentite ora mi sentite ogni tempo qualche problema con il tuo se tu senti il video forse tu forse sarà adesso la sentiamo bene adesso mi sentite perché forse è un problema di connessione ora non so quanto abbiate sentito del poco e qualche secondo sì qualche secondo io volevo sottolineare appunto qual è il compito diciamo in questa tutela che lo Stato deve assicurare contro questo nemico invisibile di cui come diceva il professor Botti prima e anche il professor Ascerto noi sapevamo poco ma oggi stiamo conoscendo sempre di più e questo ci consente di intraprendere nuove azioni e soprattutto di mettere in campo tutte quelle energie e impegno necessario affinché si ritorni ad una normalità assolutamente il primo la prima azione da compiere è la vaccinazione si è parlato di vaccini io vorrei sottolineare una frase che è stata riportata in una recentissima intervista penso risalga l'altro ieri pubblicata sul Financial Times del governatore della Banca d'Italia Visco il quale diceva che la ripresa economica non dipende da azioni monetarie o finanziarie ma dal vaccino quindi possiamo comprendere quanto la vaccinazione sia in questo momento davvero lo strumento essenziale affinché si possa uscire dalla crisi economica e questo ci deve indurre a riflettere non soltanto anche avere una visione più ampia per quello che l'Europa è stata in grado di fare per garantire ai cittadini europei l'accesso al più ampio numero possibile di vaccini con una serie di errori che sicuramente sono stati commessi e sono sotto gli occhi di tutti ma d'altro canto non dobbiamo dimenticare che è un'azione unica che è stata garantita e consentita ma che ha permesso anche la tutela di molti cittadini forse forse noi non riusciamo a comprendere che se si fosse operato singolarmente come singolo Stato Dio non voglia come singola regione ritornando al discorso del titolo quinto che ha affrontato precedentemente l'onorevole De Lorenzo sarebbe stato un disastro perché si sarebbero garantiti l'accesso alla vaccinazione soltanto quelle regioni economicamente più avvantaggiate o quegli stati economicamente più avvantaggiati quindi sebbene in questo momento ci siano sotto gli occhi di tutti evidenti storture nella fase di stipula dei contratti con le case farmaceutiche da parte della Commissione Europea d'altro canto dobbiamo anche ricordare che la salute non era contemperato all'interno del trattato unico sul funzionamento dell'Unione Europea come diritto diciamo come entità appartenente di competenza propria dell'Unione ma piuttosto dei singoli stati membri quindi in questo processo di ammodernamento dell'Europa è necessario comprendere che ciò che è stato fatto rappresenta sicuramente l'inizio come sempre si possono commettere degli errori ma non dobbiamo mai dimenticare che d'altro canto l'acquisto centralizzato dei vaccini ha offerto enormi garanzie per quello che riguarda anche un accesso più equo a tutti gli stati membri certo fare da soli per chi ne aveva le opportunità come la Gran Bretagna è stato anche più semplice avendo il brevetto di fatto della strazenica la Oxford University ma noi grazie all'impegno dei nostri scienziati e qui oggi abbiamo due eminenti rappresentanti riusciremo sicuramente grazie allo sforzo soprattutto del nostro governo di noi legislatori riuscire a sostenere nel prossimo piano di ripresa e resilienza ricerca e innovazione soprattutto in quel campo delle tecnologie avanzate come sono i vaccini a DNA a sostenere una ripresa che sia però a lungo termine quindi ripartire da quelli che sono le eccellenze del nostro paese quando parliamo di Made in Italy non dobbiamo pensare soltanto alla moda o a prodotti di eccellenza nel settore dell'agricoltura dobbiamo pensare anche e soprattutto all'eccellenza nel campo della scienza e riprendendo ancora per avviarmi alle conclusioni le parole che ha detto anche prima il professore Botti è necessario che la politica si muova in maniera coerente con quelli che sono gli indirizzi che vengono indicati in qualche modo dalla comunità scientifica ma noi legislatori in particolare abbiamo anche il dovere di adottare il diritto alla salute e anche degli altri diritti di cui stiamo parlando oggi che sono appunto il diritto all'istruzione e il diritto al lavoro volevo aggiungere un ultimo mio pensiero da ricercatrice diciamo io credo che solo una legislazione che sia veramente ispirata ad un approccio basato sulla evidenza scientifica possa essere realmente efficace e garantire poi la tutela della salute pubblica come bene primario quindi è importante che si segua una strada unica univoca e in questo momento di grande emergenza forse ascoltare poche parole ma chiare possa veramente essere utile a tutti i nostri cittadini grazie grazie alla salute già coiugato con il diritto all'uscita che è uno dei capisaldi del nostro stato di diritto è compito della politica però garantire la piena attuazione di questi principi costituzionali nel rispetto del diritto della salute sia degli studenti che dei lavoratori tutti della scuola docenti e personale e rata le organizzazioni sindacali nel corso di questo anno hanno fatto sentire la loro voce hanno espresso le preoccupazioni legittime che nascevano da una realtà scolastica italiana molto ma molto particolare i sicuri classi di classi pollaio la presenza di un numero eccessivo di alunni per classe che ha reso praticamente impossibile la puntuale osservanza del distanziamento della regola sul distanziamento e allora da parte delle organizzazioni sindacali nel corso di un anno in cui si sono susseguiti confronti con la politica da parte delle organizzazioni sindacali si sono levate forze numerose richieste a garanzia appunto del diritto all'istruzione ma anche del diritto alla salute a cominciare dalla necessità dall'esigenza di avere una edilizia scolastica che sia al passo con i tempi e non dimentichiamo che ancora oggi in Italia esistono scuole che risalgono al ventennio fascista quindi possiamo immaginare quali siano le condizioni delle classi che ospitano fino a 30 alunni tema delle classi che la politica non è riuscita ancora ad affrontare in maniera compiuta e ancora l'assenza di sistemi di purificazione dell'aria che pure sono stati richiesti dalle organizzazioni sindacali e i cosiddetti test rapidi che per la verità in alcune regioni ma anche in alcune scuole sono stati messi a disposizione degli studenti affinché gli studenti potessero appunto verificare la loro negatività prima di accedere a tutto questo potrà essere meglio espresso dal professore rino che è coordinatore nazionale della federazione di indonanza e che ha seguito da vicino la battaglia dei tanti docenti di tutto il personale scolastico che sono combattuti tra il dovere e la necessità di svolgere la loro funzione docente e le preoccupazioni legate alla discussione di tutti solo una sottolineatura aggiungo tutto il mio esprimo tutto il mio apprezzamento per lo sforzo straordinario che i docenti hanno compiuto nel corso di questo anno adattandosi adeguandosi alle esigenze mutero di imposte dalla lockdown che si sono diciamo riorganizzati hanno ripensato la loro funzione e hanno provveduto così ad usare una nuova modalità di insegnamento la didattica a distanza utilizzando nuove strategie di intervento perché il diritto all'istruzione fosse pienamente fruito davvero da tutti i gli all'un a Rino Di Meglio gli cedo la parola e anche a lui vanno i miei ringraziamenti per l'intervento e la sua partecipazione all'incontro di questo spazio grazie buonasera a tutti grazie a Rima Di Lorenzo e a tutti i carissimi amici del San Gilda di Napoli per questo seminario perché abbiamo avuto negli interventi che ci sono state delle informazioni importanti che ci hanno arricchito come conoscenze e tranquillizzato per esempio sui vaccini ed è importante avere delle informazioni da chi è competente perché purtroppo il web è strapieno di tutto e di più e a questo punto diventa difficile per tutti i cittadini e anche per gli insegnanti quindi riuscire a riconoscere quelle che sono le informazioni corrette e quelli che sono invece degli allarmismi che spaventano un po' tutti quindi grazie per queste informazioni innanzitutto ha detto bene Rina noi come sindacati siamo stati impegnati in un compito che io in parte considero improprio che è quello di tutelare la sicurezza dei nostri assistiti il professore ha scelto prima parlando delle scuole ha detto che le scuole di per sé sono un po' sicuro perché si applicano i protocolli di sicurezza beh io non sono esattamente del tutto d'accordo almeno non sempre perché la scuola italiana è una galassia di 42.000 edifici e non sempre le condizioni di sicurezza sono realmente possibili perché la prima delusione che noi abbiamo avuto riguardo alle misure di sicurezza assunte per la pandemia è stata quella sugli organici cioè noi che siamo il paese delle classi collaio abbiamo avuto gli organici esattamente uguali a quelli di prima della pandemia con un'iniezione irrisoria di un paio di insegnanti a scuola il cosiddetto organico covid che ha garantito qualche cosina in più ma sicuramente nessuno nessuno è riuscito a darci una garanzia che le scuole non fossero sovraffollate che non ci fossero le cosiddette avole collaio che dappertutto ci fossero le condizioni di sicurezza per non parlare poi di quello che avviene all'esterno della scuola quindi le decisioni prese in materia sono state e sono innanzitutto delle decisioni politiche oggi per esempio si sono riaperte le scuole ma in molte zone d'Italia la zona è rossa esattamente come prima quindi non è cambiato nulla le misure sono esattamente le stesse di prima le condizioni sono quelle di prima per cui anche questo aprire e chiudere questo stop and go continuo della scuola non è che ci convince del tutto perché nessuno ci spiega i motivi per cui una volta si chiude l'altra si apre quando le condizioni purtroppo non cambiano perché si sarebbe dovuto in alcuni paesi europei hanno fatto una chiusura massiccia in coincidenza con la campagna vaccinale hanno chiuso due mesi tre mesi di seguito e hanno vaccinato a tutto schiavo sui vaccini devo dire io che sono un europeista convinto come cittadino perché non mi occupo di politica sono un tantino deluso quando vedo che paesi fuori dall'Italia non solo gli Stati Uniti e il Regno Unito ma anche paesi come la Serbia e il Marocco sono più avanti di noi nella campagna di vaccinazione nell'approviggiamento dei vaccini perché è una questione importante perché ogni vaccino che manca è un cittadino a rischio di vita questo quando vediamo quei numeri quotidiani con cittadini che ci lasciano per sempre per cui abbiamo amici parenti conoscenti perché è un numero ormai enorme diciamo che questo purtroppo la burocrazia europea non ha dato una buona prova in questa circostanza tutti vorremmo che ci fosse un'Unione Europea più importante più grande ma la vorremmo anche efficiente perché eravamo abituati a parlare male dell'Italia e sapere che noi siamo abbastanza inefficienti ma speravamo che da su più a nord ci fosse un tantino di più efficienza che sinceramente non abbiamo visto i protocolli di sicurezza guardate io sono un insegnante come voi che sono stato abituato sempre prima di poter insegnare qualcosa a sapere quello che devo insegnare ok mi pare che sia una cosa normale quindi considero un compito quasi improprio che io devo andare a discutere con un comitato di signori che dovrebbero essere degli scienziati quali sono le norme di sicurezza adatte alle scuole avrei preferito che ciascuno si assumesse la sua responsabilità e che un comitato di tutti scienziati stabilisse chiaramente quali sono le norme di sicurezza che devono essere osservate a scuola io poi mi sono trovato un protocollo del pubblico impiego che dava l'obbligo della misurazione della temperatura e a scuola invece un altro protocollo che diceva che non era obbligato se io devo entrare al ministero dell'istruzione devo misurarmi la temperatura se un alunno entra a scuola non la misurano cioè ci sono state tante contraddizioni tante questioni sulle norme nessuno è andato a misurare le aure purtroppo come è stato detto anche da Rina che la nostra edilizia scolastica magari fosse il ventennio molte scuole risaltano addirittura prima del ventennio non so se il regno delle due Sicilia ma sicuramente l'Italia umbertina e in certe zone d'Italia l'impero osburgico addirittura quindi abbiamo un'edilizia scolastica che in molti casi fa assolutamente pena io sono stato nelle scuole di Napoli e Napoli purtroppo ha una situazione esemplare dal punto di vista negativo e speriamo che le risorse della Next Generation U servono a qualcosa ma vi devo dire che sono un po' scettico perché ho paura che arriveranno quando l'epidemia auspicabilmente sarà finita con un pezzo ma speriamo che servano almeno per i nostri figli speriamo che si impari la lezione di questa pandemia una lezione che ci fa per esempio ripercorrere io sono abituato a guardare quello che è successo indietro io voglio ricordare che i nostri genitori i nostri nonni si erano battuti per avere delle scuole elementari oggi si chiama scuola primaria a portata di bambini e che dissenatamente negli anni abbiamo chiuso centinaia e migliaia di scuole in nome delle razionalizzazioni e del risparmio abbiamo messo tantissimi bambini in condizione la mattina di essere caricati come pacchetti sugli scuolabus e portati a scuola ecco io mi domando se non dovremmo riflettere sugli errori di questa politica sugli errori della aziendalizzazione forzata di scuola e sanità che sono delle istituzioni della Repubblica non sono delle aziende non si deve guardare per il diritto alla salute e all'istruzione al profitto e al risparmio ecco questa è una riflessione proponda che deve fare la politica se ne è capace su questa vicenda terribile della pandemia per pochi giorni guardate saremmo chiamati di nuovo a questa cosa dei protocolli ma io penso che non sia un ruolo proprio guardate perché direi che ci fosse un comitato tecnico scientifico veramente tecnico veramente scientifico e non politico che prendesse le decisioni più adatte per la sicurezza di tutti e questo vorrei io come cittadino perché non riesco mai a trovarmi nel ruolo di sindacalista io mi considero innanzitutto un cittadino e in secondo luogo un insegnante e da queste due prospettive che cerco di guardare le cose quindi non sono purtroppo assolutamente sicuro e tranquillo circa la sicurezza dei nostri edifici scolastici dei nostri alunni e dei nostri colleghi un po' più perché una parte notevole è stata vaccinata però ricordiamoci che come ci hanno detto i medici sembra che adesso l'epidemia vada colpire anche i più giovani e qualche volta anche i ragazzi per cui non si tratta solo della sicurezza degli insegnanti ma della sicurezza degli alunni e anche delle loro famiglie perché quando il virus circola nella scuola ritorna poi purtroppo anche nelle case quindi alla politica noi chiediamo una maggiore rapidità delle decisioni un'accelerazione vera dell'approvvigionamento dei vaccini della campagna di vaccinazione e che ci sia la garanzia della salute di tutti quanti noi assolutamente ecco io nel mio piccolo dovere farò quello che posso perché vi parlo esattamente circa ciò che penso non faccio grossi discorsi complicati mi conoscete da anni e quello che vi dico quello mantengo ai tavoli io rappresenterò assolutamente queste cose dubito che sarò portato a firmare qualsiasi protocollo di sicurezza ma non perché non credo che non si voglia fare il meglio perché io per quel che riguarda la mia parte non do nessuna copertura alla politica per le cose di cui io molto umilmente non sono neppure competente ecco questo ve lo dico con tutto il cuore e penso di far bene così perché voglio bene ai miei colleghi voglio bene alla scuola e per questo soltanto io continuo ad agire grazie Arino grazie Arino di meglio e ora io penserei di procedere e di dedicare il tempo che resta di questo interessantissimo confronto con le domande quindi se Viviana Iannelli ha raccolto un po' di domande vorrei che fosse lei a porgerle ai relatori che sono rimasti con noi collegati a cominciare dalla onorevole Angela Iannaro Viviana prego sì dunque va beh innanzitutto ringrazio anch'io tutti quanti ringrazio Rino e l'onorevole Iannaro e ovviamente il dottore Ascierto che ci ha salutato in chat saluta tutti e ci ha dovuti lasciare ci sono due domande in sostanza che rivolgerò naturalmente all'onorevole Iannaro perché sono domande che insomma riguardano un po' il suo campo dunque ci chiedono come mai anche se si è raggiunto un buon numero di vaccinati oddio un buon numero il numero delle persone vaccinate è aumentato ma la curva dei contagi e quella dei decessi non scende e la seconda domanda riguarda il vaccino AstraZeneca e ci chiedono se l'indicazione di fare il test sierologico prima del vaccino AstraZeneca è un'indicazione potretta allora la prima diciamo la prima domanda prevede una duplice risposta la prima cosa è che assolutamente siamo ancora molto ma molto indietro rispetto alle vaccinazioni in realtà il numero buono non è così perché non siamo ancora nemmeno riusciti a mettere al sicuro gli ultraostantenni quindi che rappresentano un po' la parte sicuramente più fragile anche se come è stato detto in precedenza con questa nuova variante oggi assistiamo anche ad un abbassamento dell'età rispetto non soltanto al numero dei contagiati ma quanto di per sé alla gravità del contagio quindi purtroppo c'è ancora molta strada da fare dobbiamo implementare le vaccinazioni sappiamo che il fattore limitante è la disponibilità dei vaccini e quindi finché non si supera questo fattore limitante al di là delle capacità organizzative di somministrazione noi ci troveremo sempre di fronte ad una grossa difficoltà per poter raggiungere quel numero ideale di 500.000 vaccinati al giorno che poi facendo i conti anche con le dosi nuove che sono arrivati insomma sarà difficile da raggiungere anche insomma nelle prossime settimane quindi siamo ancora ad un numero piuttosto basso per poter osservare e questa è la seconda parte della domanda un calo sia del numero di contagiati ma soprattutto purtroppo la curva della mortalità diciamo sarà l'ultima a scendere perché ricordiamo sempre quel periodo di 15 giorni più o meno dal contagio alla poi evoluzione della malattia e eventualmente poi insomma alla fatalità diciamo all'esito fatale però la fiducia che noi dobbiamo avere è che arriveranno presso altri vaccini e quindi sicuramente con la vaccinazione si assisterà a quell'effetto di cui credo si sia già anche parlato precedentemente nella prima parte di quei paesi virtuosi che sono Israele sicuramente e anche il Regno Unito anche se su Israele va fatto un discorso molto peculiare ricordando innanzitutto la popolazione che è inferiore a quella della Lombardia diciamo quindi già se avessimo da vaccinare un numero piccolo di persone non avremmo neanche noi questi problemi innanzitutto e secondo non dobbiamo mai dimenticare anche la peculiarità della storia di questo paese che è da sempre abituato all'emergenza e quindi noi dobbiamo imparare per quello che riguarda la fase preparatoria quindi piani pandemici che sono stati recentemente aggiornati implementati e questo ci porterà a guardare al futuro anche con una maggiore serenità perché noi oggi stiamo parlando di una pandemia virale ma noi spesso nella commissione sanità alla quale appartengo siamo molto preoccupati dagli aspetti poi diciamo dell'antibiotico resistenza e quindi di possibili poi altre infezioni di natura batterica a cui ci dobbiamo preparare anche attraverso dei vaccini e questo è uno degli obiettivi che si pone questo governo per quello che riguarda proprio come dicevo prima gli investimenti in ricerca e in terapie innovative poi la seconda domanda non mi ricordo nello specifico l'indicazione di fare il test sierologico prima di effettuare il vaccino AstraZeneca allora credo che su questa storia si sia espressa anche la Ilaria Capua se non sbaglio dicendo che effettivamente sarebbe opportuno conoscere anche perché c'è il problema degli asintomatici che insomma rappresenta anche secondo le indicazioni che sono state date sia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che dall'EMA eccetera di non effettuare la doppia dose a chi ha già avuto la patologia la malattia o addirittura è in corso di malattia quindi sarebbe opportuno conoscere lo stato lo stato attuale nel momento in cui si somministra la vaccinazione però comprendete bene che questo potrebbe determinare un ulteriore allungamento e rallentamento dei tempi quindi non non credo che in questo momento magari anche farlo il giorno prima a volte potrebbe dare indicazioni che non sempre sono come devo dire insomma utili per quel istante perché è una fotografia del momento come sappiamo bene ieri sera posso lo dico insomma da da persona che ascolta e segue anche ho seguito con molto interesse questo esperimento che stanno facendo questa sperimentazione che stanno facendo relativa alla possibilità di individuare dei positivi anche asintomatici da parte di cani addestrati che potrebbe essere utilizzato in futuro per quello che riguarda i grandi assembramenti quindi la ripresa diciamo delle opportunità di frequentazione di concerti o di altre e credo che i risultati che sono stati presentati con una correttezza dell'individuazione sulla base appunto del 99% di individui diciamo positivi possa anche essere per quello che riguarda il futuro un'indicazione che validata da prove scientifiche ovviamente potrebbe dare un'indicazione più almeno insomma orientativa e poi validata ovviamente sempre da prove scientifiche in questo momento fare il serologico prima della vaccinazione potrebbe rappresentare un ulteriore rallentamento di quella che dovrebbe essere secondo me insomma una fase in cui dovremmo raggiungere rapidamente il maggior numero di vaccinati benissimo molto chiara Rina non ci sono altre domande in chat ci sono solo bene allora io credo che si possa anche chiudere qui questo interessantissimo confronto ringrazio ancora una volta i relatori illustri che hanno voluto offrirci le loro conoscenze la loro portare la loro esperienza in un settore così delicato ma anche così nuovo il tema della pandemia il tema del Covid-19 ma stiamo vivendo ed affrontando da neofiti un anno non è sufficiente per conoscere un virus del quale nulla sapevamo fino a 12 mesi fa e quindi in tutta questa difficile situazione io devo dire che è ancora fondato che torna utile e torna utile alla politica finalmente la scuola è tornata al centro del dibattito politico ne parlano tutti e ne parlano come settore fondamentale per il rilancio per la ripresa per la costruzione del futuro del nostro centro io sono certa che a questo punto la politica debba agire in maniera conseguenziale intervenendo attraverso una serie di interventi normativi legislativi ma anche attraverso finanziamenti e investimenti in un settore strategico qual è quello dell'istruzione e della formazione e questa è l'occasione per ridisegnare e riscrivere la scuola italiana partendo naturalmente dagli studenti dai loro bisogni dalle esigenze mutate senza mai trascurare quelli che sono gli artefici del miracolo dell'apprendimento ovvero sia i docenti ai quali deve essere riconosciuta e lo ribadisco la capacità di cambiare di adeguarsi di adattarsi a quelle che sono le state le mutevoli esigenze determinate in seguito alla pandemia e quindi e a loro e alla politica la politica a questo compito quello di ripensare e riscrivere una scuola che sia una scuola all'altezza della formazione dei nostri giovani che sappia anche restituire dignità ai docenti che hanno dimostrato ancora una volta di essere all'altezza della funzione che la costituzione a loro ha segnato io ringrazio ancora una volta tutti grazie a coloro i quali ci hanno seguito sui nostri canali social un ringraziamento speciale voglio rivolgerlo a Viviana Diannelli che ha seguito e ha organizzato insieme a me questo evento nonostante le sedi sindacali siano piene di docenti che stanno richiedendo la consulenza per la domanda di mobilità annuale e quindi un grazie a Viviana perché è riuscita anche a ritagliare qualche ora del suo tempo per questo con me grazie ancora a tutti volevo soltanto aggiungere una cosa è possibile rivedere su www.gilda.tv interamente tutto il seminario grazie a te grazie a tutti grazie Rino grazie Angelo grazie all'onoricole Yamaro e a tutti che sono rimasti con noi per tutto il tempo grazie mille grazie buonasera 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 domani un altro buonasera buonasera buonasera